Buongiorno a tutti sono Ilaria e oggi proveremo a fare insieme alcuni movimenti che gli amici del laboratorio di danza movimento terapia conoscono bene. Questi semplici movimenti ci permettono di mettere in moto le funzioni psicomotorie senza troppa fatica, anzi con una certa piacevolezza e a prendere contatto con il nostro corpo, con il nostro io e favorendo la relazione con l'altro. Lo faremo attraverso l'utilizzo di due canzoncine che accompagneremo con dei gesti. Tacco punta, tacco punta, tacco punta, cammina, cammina, stop! Tacco punta, tacco punta, tacco punta, cammina, cammina, stop! Gambe, 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 mani, 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 una mano sola, l'altra è con l'acqua. Gira, 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 gira e dall'altra parte andrai! Tacco punta, tacco punta, tacco punta, cammina, cammina, stop! Tacco punta, tacco punta, tacco punta, cammina, cammina, stop! Gambe, 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 mani, 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 una mano sola, l'altra è con l'acqua Gira, 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 gira e dall'altra parte andrai La bella lavanderina che lava i fazzoletti Per i poveretti della città Fai un salto, fanne un altro Fai una giravolta, falla un'altra volta Guarda in su, guarda in giù Dai un bacio a chi vuoi tu La bella lavanderina che lava i fazzoletti Per i poveretti della città Fai un salto, fanne un altro Fai una giravolta, falla un'altra volta Guarda in su, guarda in giù Dai un bacio a chi vuoi tu E per oggi, per questa pillola di danza movimento terapia abbiamo terminato Un saluto grande a tutti Ciao